Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, siamo pronti a iniziare questa sessione plenaria che è dedicata a un focus sulle infrastrutture e la tecnologia. Infrastrutture in particolare parleremo di energie, della sua capacità di creare interconnessione, cooperazione anche economica in questa regione, lo faremo con l'amministratore delegato di Eni Descalzi insieme all'Executive Director dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Fati Birol. Prima avremo l'opportunità di ascoltare anche la visione di Sua Eccellenza il Ministro degli Esteri del Qatar che è appena arrivato in sala. Ma partiamo proprio dalla tecnologia, dal ruolo che può giocare in questa fase anche sul cruciale terreno della sicurezza e della difesa, oltre che della cooperazione. Invito sul palco quindi l'amministratore delegato del gruppo Finmeccanica, l'ingegner Mauro Moretti, benvenuto. Benvenuto ingegnere, grazie di essere con noi. Ingegner Moretti, uno dei quattro pilastri di queste due giorni di conferenza è il concetto della shared security, cioè una sicurezza condivisa in un mondo e in una regione in cui peraltro l'instabilità, i conflitti contrasti sono stati dominanti. L'agenda positiva di queste due giorni vuol guardare oltre la tempesta. Io chiedo innanzitutto a lei qual è la vostra visione di come sta cambiando il mondo in questa regione, di quali opportunità si aprono anche grazie alla tecnologia e anche grazie a quello che anche voi fate su diversi fronti, affinché questa situazione possa essere gestita e letta nel modo corretto. Grazie, grazie a tutti voi per l'attenzione che dedicate a questa iniziativa importante. Intanto ringrazio per gli organizzatori, opportunità importante di costruire una sede di discussione che continuamente possa affrontare problemi comuni. Credo che il modo migliore di rispondere alla sua domanda sia quello di porci una questione. cosa dovrà essere questa regione tra 30 anni, tra 40 anni e questa regione con chi dovrà confrontarsi, con quale situazione, con quali competitori. Questa credo sia la questione più importante da affrontare. Social Security è importante se si ha un progetto comune, se si ha un progetto comune nel quale i paesi che appartengono a questa regione determinano gli elementi basi per una condivisione delle questioni che devono essere affrontate nel futuro. L'economia sta cambiando rapidamente, si sta globalizzando sempre di più e soprattutto occorre ricordare che siamo di fatto agli albori ancora dell'economia digitale. quello che succederà tra 50 anni sarà completamente diverso rispetto a quello che oggi conosciamo. Tutto è iniziato solo 30 anni fa. Come questa regione si prepara a questa sfida? Qual è la cultura comune della quale occorre discutere per poter fare sì che questa regione si omogeneizzi nell'affrontare le sfide del futuro che pongono questa regione in competizione con altre. Competizione vuol dire che deve avere le condizioni per potersi fare scegliere da altri, da investitori, da persone che desiderano e decidono di vivere qui e così via. In un mondo, ripeto, dove la globalizzazione comporterà sempre più mobilità, sempre più anche competizioni in senso positivo per poter migliorare. Ecco, partendo da questo punto di vista e considerando che sta cambiando completamente anche la strumentazione tecnologica, nel mondo in cui ci stiamo apprestando a essere Internet of Things o la riproduzione tridimensionale di prodotti, sposta completamente quella che è la catena che oggi si ha nella costruzione del valore. Tra coloro che assumeranno sempre più una posizione di innovatori, di inventori e di possessori delle conoscenze e dei disegni della parte ingegneristica, quelli che saranno dei meri esecutori. Ecco, come questa regione vuole affrontare questo problema? E lo dico sia ai paesi che stanno al nord del Mediterraneo che quelli che stanno al sud. I primi e i secondi hanno comunque una vita comune. Non è pensabile che non vi sia da parte di entrambi la consapevolezza che la prosperità o la si ha in comune, ovvero rispetto a quelli che sono i trend di altre regioni, penso all'East Asia o comunque le Americhe, avremo delle cose che rappresenteranno dei fardelli. In questa prospettiva allora il problema della sicurezza assume forse un riferimento diverso. Già oggi c'è una discussione molto aperta, si è sempre fatta grande distinzione tra quella che era la security intesa come home security e la difesa come sicurezza verso l'esterno. Beh, sempre di più questo confine viene ad essere ricostruito, deve essere in qualche modo ripensato. La strumentazione... Il caso è quello di Parigi, forse il caso di Parigi meno di un mese fa ci ha messi di fronte al fatto che la minaccia non arrivava direttamente dall'esterno del paese ma da nuclei che da lì arrivavano. Questo come cambia la prospettiva? La prospettiva cambia nel senso che i sistemi di security in senso lato, sia di home che di external security, cioè la difesa, devono in qualche modo essere ripensati in maniera unitaria e devono essere fondati soprattutto sugli strumenti di intelligence e sugli elementi che anticipano tutti quelli che sono gli scenari possibili, i vari rischi possibili sia all'interno che verso l'esterno. E in questo caso quindi cambiano anche, in questa prospettiva, anche tutti gli strumenti che riescono a determinare i rischi e cerchiano in qualche modo di poterli prevenire, in qualche modo riorganizzare, ma naturalmente questo anche presuppone dei cambi importantissimi nell'ambito di quelli che sono gli strumenti di difesa. Il Novecento è stato il secolo nel quale noi ci siamo armati per poter in qualche modo affrontare la guerra, la terza guerra mondiale con armi nucleari. Non so, questo potrà essere sempre un rischio, lascio naturalmente agli esperti militari questa cosa. Sicuramente quello che dobbiamo affrontare oggi è che a Parigi, non con delle armi nucleari, ma con dei semplici Kalashnikov di 40 anni fa, ovvero in Egitto con una semplice lattina piena di esplosivo messa vicino ai serbatoi, si riescono a fare dei disastri. E questa cosa qui cambia completamente gli scenari. Il sistema di attenzione, di prevenzione, di contromisure deve essere completamente ripensato. E naturalmente, ripeto, tutto viene spostato nella parte di intelligence. Ecco, l'intelligence ha gli strumenti adeguati in questo momento. Dove punta anche la vostra ricerca, l'evoluzione dei sistemi? Noi stiamo naturalmente cercando di affrontare, come tutti gli altri peers in questo settore, lo stesso problema. La parte dell'intelligence è la parte fondamentale. Naturalmente, intelligence vuol dire poi cyber devices, e quindi vuol dire anche affrontare tutto il problema della cyber security. Noi su questo siamo, direi, molto avanti. Abbiamo, come meccanica, vinto un importante tender della Nato, una delle poche cose che è stata posta in gara, e stiamo equipaggiando per la cyber security i 28 nodi della Nato. Questo ci pone, in qualche modo, all'avanguardia rispetto ad altri competitori, perché non abbiamo solamente da ideare cose, ma già li stiamo costruendo, li stiamo implementando. Anche questo problema, però, pone la questione della cyber in termini completamente nuovi. Cioè? E cioè, mentre fino ad oggi la security è stata assicurata sulla cyber a posteriori, con un approccio a posteriori, deve rientrare in una logica embedded fin dall'inizio, fin dal design del sistema cybernetic. È l'unico modo per poter fare sì che si vengono ad avere delle architetture che consentano di poter avere una vera e intrinseca capacità di essere sicure, se lo si pensa a questo problema, fin dall'atto della progettazione iniziale. È un po' quello che è avvenuto, se ci pensate, nell'ambito della safety. Fino a quando la safety è stata affrontata a posteriori, in maniera distaccata dai sistemi, come qualcosa che si doveva affrontare poi, non abbiamo mai avuto dei sistemi efficaci. Abbiamo avuto dei sistemi integravelmente in safety, da quando abbiamo deciso di poter affrontare il problema della sicurezza, in questo senso, all'inizio della progettazione, sviluppandoli in maniera coerente. Ecco, questa cosa cambia completamente anche gli elementi fondamentali nei quali poi noi dobbiamo agire per poter garantire la qualità, in questo caso appunto la sicurezza. Così come questa cosa avrà naturalmente una riflessione importantissima nel campo civile, perché lo sviluppo di queste tecnologie in campo, naturalmente della security in senso lato, come ho detto, compresa la difesa, offre allo spazio del civile degli elementi nuovi. E qui nasce un'altra questione. Non c'è più una definizione così precisa come anticamente si aveva nella ricerca e sviluppo dei sistemi di difesa rispetto ai sistemi civili. Anche questi ultimi hanno la loro capacità di poter rigenerare nuove tecnologie che possono essere utilizzate per la cyber. Si riferisce anche ai sistemi di controllo dei confini, ad esempio. Anche a quelli, ma un attimo solo. È chiaro allora che andremo sempre avanti più in architetture aperte, nelle quali si potrà lavorare nella logica plug and pay, per poter avere immediatamente il risultato. E qui naturalmente si apre un'altra questione importante di tipo economico, il problema della difesa della proprietà intellettuale. Questo nel mondo che sta cambiando e come dicevo prima, sta spostando, sta in qualche modo rideterminando gli elementi di innovazione e sviluppo rispetto alla semplice esecuzione, cosa che rivoluzionerà anche la parte manifatturiera in senso stretto, relegandola a fatti più esecutivi piuttosto che di innovazione e di design. Deve rimettere completamente in luogo anche tutti gli elementi che consentono a questo di potersi conservare. Perché affronto questo? Perché anche questo deve essere uno dei problemi che deve essere affrontati in queste sedi. La fiducia tra paesi si viene a ricostruire anche se esistono delle regole che salvaguardino gli interessi, e in questo caso gli interessi della proprietà intellettuale, affinché i trasferimenti di tecnologia assolutamente indispensabili per poter fare un'integrazione di questi paesi possono essere ragionevolmente fatti avendo la confidenza di poterli in qualche modo sostenere. Per quanto lei stava dicendo adesso? I confini, il territorio, il controllo. Noi stiamo facendo degli ottimi sistemi di controllo dei territori, li stiamo affrontando in molti paesi anche qui presenti, perché rappresentano uno degli elementi fondamentali nei quali vengono determinati e individuati quali sono i rischi, vengono predisposti quali sono le misure di risposta, vengono determinati l'allarme dei mezzi che devono dare risposta ed eventualmente anche il loro intervento. Su questo noi abbiamo sviluppato delle piattaforme che sono fondate sostanzialmente sulle ground control center, che possono dialogare con droni o con elicotteri o via satellite e che permettono di avere quindi una capacità di azione continua e di sorveglianza continua per 24 ore al giorno, 365 ore all'anno, alimentando i sistemi di intelligence e quindi avendo con questi una capacità di rendere molto più efficienti ed efficaci l'uso delle risorse che devono essere messe a disposizione. In questo caso quindi c'è anche un grande contributo al problema dei costi di gestione di questi sistemi o dei sistemi in generale di security e di difesa, che naturalmente sono sempre molto pesanti e devono essere anche questi assolutamente presi in attenzione per permettere che questo avvenga in maniera sostenibile da punto di vista economico. Un sistema come Cosmos Sky ad esempio? Cosmos Sky permette di poter dare tante informazioni, lo stiamo usando naturalmente come la difesa italiana e anche ad altri clienti che usano questo e lo possiamo utilizzare sia per le applicazioni di difesa e di security, così come applicazioni del tutto civili per la parte di geosservazione. Questo è un esempio concreto nel quale si può vedere come questi sistemi sono polivalenti, non solamente si dice dual role, forse anche trial role, possono essere utilizzati per ragioni di difesa, per ragioni di sicurezza civile oppure per ragioni di emergenze immediate. Se pensate che con questo nostro sistema noi siamo stati i primi a dare le prime informazioni quando c'è stato il terremoto del Nepal per dare immediatamente le indicazioni immediate per gli interventi più rapidi che potevano essere fatti. Quindi quando si fa questo tipo di investimento ormai non lo si fa semplicemente nella logica della security o della difesa, ma lo si fa ormai in una logica molto più vasta visto che la piattaforma consente, il sistema consente di poter avere delle risposte polivalenti. La vorrei riportare al tema dell'inizio, cioè la share security e questa visione per cui bisogna riuscire a mettere in comune anche la creazione di ricchezza, la prosperità per poi avere un sistema anche di sicurezza comune. E le chiedo, quest'anno sono successe tante cose, tante cose anche non positive, dai segnali che voi state raccogliendo con i paesi con cui lavorate. Lavorate in tutto il mondo ma anche con tanti paesi di quest'area. Siamo più vicini o più lontani da questo concetto di share security? C'è nella consapevolezza che dobbiamo avvicinarci, c'è la consapevolezza che quello che oggi noi mettiamo a difesa di confini può essere utilizzato domani come punto di alimentazione, di conoscenza e di informazione per una difesa del territorio che vede non più separazioni ma unità. E quindi possono essere utilizzati quei sistemi anche in maniera tecnologica, in maniera poi di gestione delle informazioni per alimentare l'intelligence come dei veri e propri bridge. oggi che possono naturalmente essere per domani utilizzati in maniera opportuna nella logica di una share economy, non solamente share security. Questo credo sia la cosa fondamentale. Io credo, e credo che possa essere questo un tema che nei prossimi anni possa essere sviluppato, noi dobbiamo cercare di alimentare una cultura della tecnologia e dell'imprenditorialità nell'area mediterranea. Questa forse è una delle questioni fondamentali che dobbiamo affrontare. Perché fino a quando faremo operazioni di logica di fornitura da parte del nord verso il sud non avremo la capacità di poter creare gli elementi di una reale integrazione economica dell'area mediterranea. Troppe sarebbero le differenze. Allora, le discussioni che devono essere fatte, che vengono fatte anche oggi, penso a Parigi, dove anche lì il problema finale è quante sono le risorse economiche disponibili per far sì che i paesi che sono meno sviluppati possano recuperare i gap e possano quindi partecipare a quello che è un interesse comune, lo dobbiamo anche affrontare in questo caso, in senso più lato. Quali sono gli elementi di investimento che dobbiamo fare in maniera comune per poter far sì che questa regione rappresenti una risorsa importante che dia sostegno nella competizione globale all'euro Africa, iniziamo dall'euro mediterraneo, poi vedremo, per far sì che questa regione sia più ampia, più composta e abbia una robustezza maggiore di quella che la sola Europa, forse in prospettiva, non ha, considerando l'aging della popolazione, considerando le dimensioni che saranno sempre più ridotte rispetto a quello che stiamo vedendo, rispetto agli altri giganti e così via. Quindi una cooperazione, vorrei proprio esaltare questo, deve essere vista proprio nell'interesse comune, sia della parte del nord che della parte del sud. È una sorta di trasfusione di sangue che dobbiamo fare e questo si alimenta con una trasfusione di cultura. Ricordiamoci che i paesi arabi nei secoli precedenti sono stati i primi in quelle che sono state le discipline scientifiche. Pensate al contributo in ambito di matematica, non solamente all'aritmetica, sto parlando della matematica in senso vero, e quanto questo è fondamentale oggi quando si parla di cyber o di nuove tecnologie. Vuol dire che c'è sicuramente un germe culturale importante, scientifico, deve essere sviluppato e che può essere la base comune sulla quale costruire una condizione comune per poter fare sì che questa diventi una regione molto prospera. Infine, ingegnere, io le chiedo anche, queste trasformazioni che abbiamo descritto, quelle che sono legate all'elemento tecnologico, all'elemento dei rapporti geopolitici in quest'area, portano anche a cambiare il modo in cui è organizzata l'azienda. Lei ha impostato una riorganizzazione per farne una one company. Le vorrei chiedere a che punto siete arrivati e cosa rappresenterà il 2016 per voi, da questo punto di vista. Intanto mi lasci dire che il 2015 è stato un anno molto positivo. Noi siamo passati da un rapporto debito-valore di mercato dell'azienda 1,5-1, abbiamo più che invertito la situazione. Chiuderemo il 2015 in un rapporto debito-valore di mercato dell'azienda di 0,4 rispetto a 1. E quindi questo è completamente un rovesciamento di campo che ci permette intanto di guardare al futuro con una capacità di investimento. One company partirà sicuramente dal primo di gennaio. Ci presenteremo quindi ai nostri partner, ai nostri clienti in maniera diversa, non più come un'articolata congrega di aziende, più o meno coordinate, ma con un'unica faccia, con un'unica giacca, con una capacità di poter presentare un portafoglio di sistemi completo, non a spezzettato a seconda di chi presenta, e quindi possiamo anche meglio fare vedere tutte le capabilities di cui noi siamo dotati, dal campo dell'elettronica per la difesa e la security, al campo del spaziale, al campo dell'aeronautica ad alla fissa, come si dice, o quella degli elicotteri. Abbiamo una gamma completa di produzioni. E naturalmente vogliamo porci nel confronto con i nostri clienti condividendo le possibilità di sviluppo. E quindi anche con una possibilità concreta di poter investire con una localizzazione di parte dell'attività che facciamo e discutendo su quelli che sono progetti comuni che possiamo sviluppare in campo proprio di innovazione. Non semplicemente trasportando quello che già abbiamo in quel mercato, ma cercando assieme di capire quali sono le necessità, i requisiti e su quelli trovare delle soluzioni. Naturalmente avendo anche attenzione su una cosa, molto spesso quando si pensa a questi sistemi si pensa sempre a miliardi e miliardi. No, il problema di molti paesi è quello di avere dei sistemi che sono in qualche modo aggredibili. La affordability sarà naturalmente una delle questioni più importanti che affronteremo assieme a quella della qualità dei nostri prodotti. Non abbiamo parlato di aerospatio ma andrete anche su Marte nel 2016 così. Noi stiamo sviluppando Marte, abbiamo fatto tutto il trapano di Marte che andrà su per poter prelevare i campioni e poterli poi offrire a quella che è la comunità scientifica per poter capire come lì si sta. sperando di andarsi nel futuro più lungo possibile. L'abbiamo molto alla terra e vorrei rimanere molto... Infine so che siete anche alla ricerca di un nuovo nome. Ce l'avete già in cassaforte oppure a che punto siete? Non lo sveleremo dal primo di gennaio per ragioni commerciali. Prima abbiamo bisogno di farci conoscere come One Company ed immediatamente dopo, qualche mese dopo, ci presenteremo con un nome Brandt che sarà molto italiano, sarà molto riconoscibile e semplice. Sarà la sintesi dell'ingegno italiano. Allora staremo a vedere. Grazie ancora Ingegner Moretti. Grazie. Grazie.